Aggiudicati i lavori per il rifacimento del manto erboso dello stadio Franco Fanuzzi sarà la ditta Vivai Barretta Garden a effettuare l'intervento. Il terreno di gioco rappresenta la priorità più urgente e che insieme all'ammodernamento dell'impianto di illuminazione consentirà alla formazione bianca-azzurra di disputare le gare interne nell'impianto Brindisino. I lavori avranno una durata di 35 giorni con un premio di 1.500 euro per ogni giorno d'anticipo sulla chiusura del cantiere. Lo scopo dell'intervento prevede un nuovo pacchetto strutturale innestato sull'impianto drenante già esistente in modo da risolvere le vecchie problematiche con un drenaggio funzionale tale da garantire lo svolgimento delle gare anche con la presenza di eventi atmosferici intensi ed estremi. Parallelamente si è definita la convenzione con City Green Light per l'impianto di illuminazione in modo da adeguarlo agli standard della Serie C. Il secondo stralcio di interventi invece prevede una serie di ammodernamenti considerati non prioritari e che in quanto derogabili potranno essere ultimati entro i primi mesi del 2024 e per i quali è in corso la procedura d'appalto che si concluderà il 30 agosto. Nel frattempo Danucci e suoi giocheranno le gare casalini a Taranto nello stadio Erasmo Iacobo.